Quando sono stato invitato a presentare un tema sull'Europa, da un punto di vista filosofico, mi sono chiesto qual è il titolo da dare. Allora poi con le organizzatrici abbiamo scelto questo tema. L'alterità come fondamento dell'identità. Qui c'è tutta una filosofia dentro. Perché? Perché non c'è l'Io se non c'è il tu. Non c'è l'identità se non c'è un altro con cui confrontarsi. L'Io, ad esempio, solo guardandosi allo specchio può riconoscersi, cioè uscendo da sé diventando altro da sé. Bene, non voglio farvi una lezione di filosofia, ma di incominciare bisogna dire che non siamo i primi a parlare di Europa e di identità europea. Anche perché nel 1990 Gianni Vattimo, che organizzava a Torino un convegno sulla identità europea, invitò Jacques Derrida, come iniziò il suo discorso, lo fece con una domanda. Ma che cos'è Europa? Se chiedessi a voi la definizione di Europa, io credo che probabilmente avremmo delle definizioni che risentono di qualche cosa che ci è stato tramandato da altri, dai genitori, dai nonni, dalla cultura che ci è arrivata. Bene, Derrida pensò che occorre togliere completamente le definizioni che ci sono arrivate perché sono ricche di luoghi comuni. Occorre andare oltre e decostruire l'idea di Europa. Questo verbo, decostruire, non lo spiego mai. Non vuole mai dare una definizione di decostruzione. Anche perché considerava che ogni definizione tende a chiudere. E la decostruzione per lui era un qualche cosa che doveva sempre rinnovarsi. Beh, io ho provato a capire che cosa volesse dire con decostruzione. Per lui era quindi togliere questi luoghi comuni, però andando alla ricerca di che cosa? Delle differenze che noi abbiamo con gli altri, dell'idioma che è particolare per noi e il rispetto della minoranza. Su questo vorrei fermarmi un attimo per pensare a un filosofo contemporaneo morto nel 2002, se non vado errato, John Rawls, perché disse se noi volessimo costruire una costituzione giusta, tutti siamo alla ricerca di una costituzione giusta, come dovremmo fare? Dovremmo pensare di costruirla essendo noi minoranza. oggi la democrazia si regge invece sulla maggioranza. E la maggioranza ha sempre ragione. Che faccia le guerre e che vinca, e il vincitore ha sempre ragione. Chi perde ha perso e non aveva ragione. Ecco, Rawls parla proprio della minoranza e dell'attenzione alla minoranza. Anche Derrida parlava dell'attenzione alla minoranza, alla singolarità. Ma anche occorre fondare un diritto formale che ci unisca e sul quale trovarci d'accordo. Trovarci d'accordo su che cosa però fondata fa questa unione? Sul rifiuto del rassismo, del nazionalismo, della xenofobia. Ebbene, serve dunque la modifica del proprio atteggiamento mentale. Ed è su questo che io vorrei soffermarmi. Ho cercato di dividere la mia relazione in tre parti. Ricordo, apro una parentesi, la chiudo velocemente. Ricordo il mio professore di greco e latino quando entrava in classe, era un prete, per cui io ero in collegio allora, come siete voi. Facevamo insegno della croce e dopo si girava, andava alla lavagna, non parlava, scriveva, riempiva la lavagna e diceva, bene, oggi parliamo di questo. Ecco, tutta una psicologia c'è dietro che parla di sincresi, analisi e sintesi. Cioè, se noi vogliamo andare in gita scolastica, dobbiamo sapere dove andiamo, che cosa andiamo a vedere. Non possiamo andare là senza sapere che cosa andremo a vedere allo sbaraglio. Bene, lui faceva questo. Cioè, faceva la sincresi, che è una idea così generale delle cose che poi si vanno ad analizzare. Bene, io ho cercato di dividere la mia relazione spiegandovi già da adesso dove andremo a finire. Faremo una presentazione storica, poi una meditazione sul pensiero dei filosofi e alla fine una conclusione sui canoni sui quali basare il nostro stare insieme. Anche Paul Valéry negli anni intorno alla fine dell'Ottocento e agli inizi del Novecento si pose la domanda, la stessa domanda che si porrà nel 1990 Jacques Derrida. E che cos'è Europa? Tutti i popoli che sono arrivati sulle sue rive si sono mescolati dall'Asia, che è a est, fino all'ovest. Questa è la parte territoriale. E questi popoli hanno combattuto guerre. Ma oltre a questo c'è un'ultima parte che è interessante, che è quella sulle credenze, sui linguaggi, sui costumi e sulla tecnica. Cioè non è solo un territorio, ma è anche un insieme di culture. E allora noi che cosa dovremmo fare per costruire una identità europea? Dovremmo cercare quei canoni, quelle strutture fondamentali che ci permettono di stare insieme. La prima volta che compare la parola Europa, forse lo saprete, vi dirò magari delle cose che voi già sapete. La prima volta che compare è in un inno omerico del, vedete, settimo, sesto, avanti Cristo. E qui compare proprio quelli che abitano l'Europa. Nel 1948, dopo la guerra, in Germania venne coniata questa moneta, carta moneta. C'era una donna, una bella donna, un po' scollacciata direi, sopra un toro. Nel 2002, in Grecia, sui due euro, venne incisa questa immagine, sempre di questa bella ragazza, su un toro. In una metopa del Tempio Y di Selinunte, oppure a Kos, nell'isola di Kos, c'è un mosaico che richiama sempre questa bella donna scollacciata, un po' nuda, sopra questo toro. Poi anche tutta l'arte contemporanea riprende la figura. Europa sul toro. Era Europa. Zeus si era tramutato in un toro bianco, si era mescolato con i tori di altro colore del re di Tiro. Il re di Tiro probabilmente era un mandriano. Vi immaginate oggi i re che facciano i mandriani. Beh, il re di Tiro faceva il mandriano e aveva una figlia che si chiamava Europa. Zeus se ne innamorò, la prese e la volle far sua. Ma lei disse, no, 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 si tramutò in Aquila e ne nacque Minosse. Io non so se i greci credessero veramente a questo mito, o se Europa fosse proprio quella bella fanciulla che è rappresentata sulle due monete. sta di fatto che da Creta verso Occidente tutta quella si chiamò Europa. Facciamo un salto di anni e arriviamo al V secolo d.C. Da Oriente i popoli nomadi si erano spostati, erano arrivati all'oceano Atlantico. La Francia faceva parte, intorno all'Ottocento, dell'impero romano d'Occidente. I primi re franchi furono i merovingi. Un certo meroveo aveva fondato questa dinastia, ma il più conosciuto fu Clodoveo. Come succede anche oggi, i re regnano. E invece chi governa sono i primi ministri. I primi ministri allora si chiamavano maestri di palazzo. I maestri di palazzo divennero sempre più importanti. Tanto che Carlo il Martello, che incominciò anche a fare le guerre contro gli arabi, a Poitier li vinse. Aveva due figli, Carlo Manno, maestro di palazzo dell'Austrasia. Vi ho messo la cartina anche per capire la divisione. e Pippi nel breve invece aveva la neustria. Carlo il Martello si era mantenuto la quitania. Pippi nel breve aveva due figli, Carlo Manno e Carlo Magno. Carlo Manno morì, rimase tutto nelle mani di Carlo Magno. E tutti conosciamo che cosa successe nella notte di Natale dell'Ottocento. notte di Natale dell'Ottocento, Carlo Magno viene invitato, va a Roma, da Leone Terzo. Perché dico viene invitato o va? Noi siamo abituati a studiare la storia basandoci sui documenti storici. E allora diciamo i documenti sono quelli che fanno la storia. C'è chi dice, ma la storia è oggettiva perché la guardo sui documenti. Bene, nella notte di Natale dell'Ottocento, Carlo Magno giunge a Roma, viene incoronato da Leone Terzo. E chi ci parla di questo sono tre fonti. Vita Caroli, di Eginardo, gli annales regni francorum e il liber pontificalis. Gli annales regni francorum erano degli annali che raccontavano le storie dei re. C'era anche Eginardo che aveva scritto la vita di Carlo Magno, che era naturalmente al servizio di Carlo Magno. E quindi il suo documento forse era un po' diverso dal documento che troviamo nel liber pontificalis. L'ho pubblicato ultimamente in un volumetto qui di Filosofia, a pagina 103-102, dove metto in evidenza come il documento storico sia sì un documento dei fatti, ma c'è sempre una visione del fatto attuata da chi scrive. E allora Eginardo scrive, Carlo Magno con la sua magnanimità è andato a Roma e Leone Terzo si è inginocchiato davanti a lui come fanno i vassalli di fronte all'imperatore. Se noi leggiamo invece nel liber pontificalis la stessa notte, non era una notte diversa, noi troviamo che Leone Terzo, magnificando la figura di Carlo Magno, gli impose sulla fronte la corona mostrando la sua superiorità nei confronti dell'impero. Bene, i documenti storici sono sì documenti, però hanno sempre una pre-lettura. Ecco, vi consiglio di andare a vedere sempre la pre-lettura. Su questo è dall'83 che lavoro e con il mio carissimo amico Pierluigi Morini scrivemmo già delle cose sui modelli di razionalità che reggono queste esposizioni documentarie. Ludovico il Pio ottenne l'impero, ma ebbe quattro figli. Cosa facciamo? Dividiamo l'impero in quattro? No, lo dividiamo in tre perché uno muore. Pippino, che aveva avuto l'Aquitania, muore. Restano tre fratelli. Uno è Lotario, uno è Carlo il Calvo, l'altro è Ludovico il Germanico. Ludovico il Germanico ottiene la parte ad est. Carlo il Calvo ottiene quella che è oggi la Francia e in mezzo Lotario ottiene, visto che Pippino era morto, ottiene sia l'Italia che quella fetta che si chiama Lotaringia. Voi siete ancora giovani, ma quando sarete più grandi vi troverete di fronte a chi vuole sovrapporsi nei testamenti per avere la maggior parte. Bene, i due fratelli si mettono d'accordo. tra di loro il Carlo il Calvo, che aveva la Francia, Ludovico il Germanico, che aveva la parte est, si mettono d'accordo. E dove si trovano? Si trovano in un borgo, che è l'incrocio di più strade, strade Burgus, nell'Ottocento e Quarantadue. Qui inizia la lingua tedesca e assieme alla lingua francese. Perché? Perché Ludovico il Germanico, per farsi comprendere dall'esercito di suo fratello, deve giurare nella lingua del fratello, cioè in franco. La stessa cosa fa Carlo che deve giurare in tedesco. Ecco allora che nascono, nascono, c'erano già, vengono sancite come lingue ufficiali. La stessa cosa avvenne nel 960 a Capua, quando alcuni monaci benedettini si trovarono in contrasto con un agricoltore e andarono dal notaio. E il notaio li fece giurare. I benedettini sapevano il latino, ma l'agronomo non lo sapeva. Per cui giurarono in volgare. Sao, si sa che quelle terre di cui qui si discute, sono state per 30 anni parte di San Benedetto, facevano parte cioè del monastero. E chi più dei filosofi non ha parlato di una unità della ricerca, dell'unità della ricerca, dello stare insieme. Voglio vedere con loro quelle categorie che ci permettono di stare insieme. Perché? Perché si tratta di un appuntamento con il resto del genere umano. Filosofi che hanno parlato dell'Europa ce ne sono a bizzeffe. Ne ho scelto alcuni, ma non mi trovo neanche con questi. Perché? Perché mentre Leibniz parla della produzione fotolingua celtica-germanica che dovrebbe unire tutti, fichte, questioni politiche e situazioni spirituali, con Hegel tutta la storia dei popoli dell'evinziazione dell'idea che scorre nel tempo. Cosa voleva dire Hegel? Che è sempre difficile da comprendere. L'avete studiato Hegel? No. Beh, dice questo. Voi volete andare al cinema? Beh, allora, se volete andare al cinema, dovete farvi un programma. Un progetto. Voglio andare al cinema. Ma per andare al cinema devo o prendere la macchina, o andare a piedi, o prendere la bicicletta, prendere la barca, visto che siamo qua a Venezia, o vado con mio papà, mia mamma, il moroso, la morosa, ognuno scelga quello che vuole. Cioè, il progetto iniziale non può avvenire se non nel momento in cui io lo faccio. Io posso avere in mente, vado a vedere un film, ma fino a quando non mi muovo da casa e non entro in una sala cinematografica, non l'ho attualizzato, non l'ho attuato. Bene, Hegel dice, c'è un progetto che lui chiama idea, nella mente di Dio, facciamo così, no? Nella mente di Dio c'è un progetto che deve realizzarsi nella realtà. E si realizza nella realtà, ed ecco l'Europa, che cos'è? È quel progetto che un po' alla volta si è realizzato. Insomma, questo è un suo pensiero. Ma anche Nietzsche si pose e pensò di tornare indietro nella storia per trovare lo spirito che vigeva, dove? Nell'epoca greca. Però io non mi ritrovo con questi filosofi, preferisco altre soluzioni. Cioè, vorrei capire come si fa a stare insieme. Non so, perché un matrimonio va a rotoli? Perché non sono capaci di stare insieme. Allora, vorrei capire perché noi europei dobbiamo stare insieme. non da un punto di vista economico, politico, ma vorrei capirlo da un punto di vista filosofico. La collaborazione parte dalla cultura, quindi, non parte dal territorio. Uno dei primi, fine Ottocento, inizi Novecento, che cercò di parlare di Europa fu Miguel de Unamuno, il quale però aveva, a mio giudizio, un difetto. Cioè, vedeva la cattolicità del popolo spagnolo come la fonte necessaria su cui poi conglobare tutto il resto. Nel Novecento, Albert Camus era d'accordo su questo. Ma invece, José Ortega non la pensava nella stessa maniera, perché la Spagna, sì, era un problema, ma per risolverlo occorreva parlare di Europa. Bene, fu chiamato, guardate la data, 1949, siamo dopo la Seconda Guerra Mondiale e bisognava costruire. È l'idea della ricostruzione. Fu chiamato a Berlino e dice queste parole. Pienso che è in Berlino, precisamente in Berlino, dove si deve parlare di Europa. Il tema è enorme e ha le più numerose dimensioni, ma è così nucleare, così jugoso, che, per dire lo più minimo, sarebbero necessarie molte ore. Conversare su qualche tema importante è oggi di una maniera difficile, perché le parole loro hanno perduto il suo sentito efficace. Le parole hanno perso la loro efficacia e la parola che ha perso più efficacia è democrazia. La parola democrazia si è diventata stupida e fraudolenta, è diventata una prostituta. Perché? Perché alcuni ne parlano in un modo, altri ne parlano in un altro. Che cosa vuol dire democrazia? Ho cercato di vedere nei filosofi quale poteva essere la struttura di una democrazia, quali sono le parole per fondare una democrazia. E sono queste, a mio giudizio, fondamentali. Ce ne sono altre. Identità, alterità, relazione, io-tu. Io-tu. Tre filosofi che parlano di questo io-tu. Non c'è l'io senza il tu. Emanuele Levinas dice che l'identità dell'io non c'è se manca la comprensione del tu. Io per conoscermi devo uscire da me e cercare di capirmi. Ma nel mentre io faccio questo, io divento altro da quello che ero. Bene, il tu, che è l'altro da me, io lo posso vedere come divisione, quindi frattura, oppure lo posso vedere come una struttura dialogante, una struttura di colloquio tra io e tu, dove la differenza è fondamentale. Mordecai Buber scrisse un libro intitolandolo Io e tu. Paul Ricoeur, nel suo saggio Se stesso come un altro, afferma che la persona non si realizza prolungando l'io sull'altro, ma presentando il sé all'altro. Dobbiamo presentarci. Ogni volta che noi ci incontriamo, ci diamo la mano e diciamo piacere. Ecco, questo è il presentarsi, il piacere di andare verso l'altro. Husserl parla dell'irrazionalismo, guardate la data. La data di morte è nel 1938. Negli anni 30, Hitler prende il potere. E lui parla di irrazionalismo e quindi parla di relativismo e di nichilismo che governano quella società. Occorre riprendere l'eroismo della ragione, cioè essere uomini razionali. E per fare questo bisogna ritornare all'ideale classico, cioè alla Grecia e all'epoca galileiana, passando per il rinascimento. Gadamer. Gadamer, anche lui parla dell'io e dell'altro. Occorre che vediamo l'altro come gli altri vedono noi. Dobbiamo porci il rapporto dell'io con il tu come se fossimo il tu. Anche il tu vede l'io come un tu. Nell'altro e nel diverso noi possiamo in qualche modo incontrare noi stessi. Ma più pressante che mai oggi il dovere è di riconoscere nell'altro e nel diverso quello che c'è di comune. Finora non abbiamo trovato delle grandi categorie se non l'io e l'altro. la diversità ma la diversità sta proprio in questo rispetto dell'alterità. C'è un altro c'è l'altro di fronte a me che è un compito sia etico sia politico ma è più etico che politico. L'altro dell'altro dice vivere come l'altro dell'altro cosa vuol dire l'altro dell'altro? Cioè vuol dire che il nostro tu cioè Anselmo di fronte a me vede me come diverso da lui. L'altro dell'altro siamo tutti altro dell'altro. Siamo tutti altro nessuno è io o tutti siamo io ma nel chiuderci nell'io facciamo l'isola mentre considerando l'altro dell'altro pensiamo a un'apertura. torniamo pure a Gadamer anche lui vede nella tradizione umanistica il recupero della capacità dello stare insieme e lo vede nella tolleranza parola che non vuol dire soltanto io ti tollero io tollero te come fosse una un premio ma la tolleranza è la capacità di assumere l'altro uguale a se stessi è un privilegio per l'Europa aver saputo e dovuto imparare più di altri paesi a convivere con la diversità huger abermas tuttora vivente scrive che l'assetto europeo deve porre la sua base la categoria dell'universalismo dobbiamo cercare cioè di stare insieme in maniera corale sensibile però alle differenze non dobbiamo omologare tutto dobbiamo cercare di differenziare occorre andare alla ricerca di forme dove l'estraneo non sia più un estraneo e quindi un nemico ma si inserisca in una identità collettiva fondata su una pluralità di valori e cioè la polifonia quello di cui si parla ma voi pensate se il primo il primo violino il secondo violino dicessero no no faccio io l'orchestra ma che orchestra fa? facciamo tanti io separati dove ognuno va per conto proprio no la polifonia è proprio questa la capacità di uniformarci agli altri però nelle differenze ho citato Hans Jonas che non parla di Europa però parla di un codice che a mio giudizio è fondamentale principio responsabilità noi siamo responsabili per quello che lasciamo ai nostri figli perché loro godranno di quello che noi abbiamo lasciato e guardate come la filosofia possa inserirsi anche nella politica dell'oggi il principio responsabilità viene accolto nella carta dell'Expo e siamo all'oggi nella carta dell'Expo dove nutrire il pianeta terra è lo slogan nutrire il pianeta terra mi ricorda tanto Marshall McLuhan quando dice che noi siamo in una grande barca dove tutti dobbiamo remare e se uno non rema o se uno rema contro la barca non va avanti vorrei fare una precisazione che è di natura filosofica molto spesso si sente parlare di unità però stiamo attenti alla unità globale indefinita senza definizioni che a mio giudizio non è quella da cui dobbiamo partire o quella a cui dobbiamo arrivare perché l'uno non dà vita è il due che dà vita se qualcuno di voi ha letto Eraclito si ritroverà che Polemos è il padre di tutte le cose bene nelle traduzioni che io ho trovato Polemos è tradotto con guerra no io non amo questa traduzione io amo il Polemos come funzionalità reciproca dove il due resta due in un principio di complementarità la stessa lo stesso principio che noi troviamo nel DNA se noi guardiamo le due spirali quella verde e quella rossa sono separate ma ci sono dei legami bene noi dobbiamo cercare ciò che lega non ciò che ci divide noi se guardiamo ciò che ci divide non siamo nessuno uguale all'altro però se noi guardiamo qualche cosa che ci unisce magari qualche cosa troviamo anche Massimo Cacciari parla della dicotomia 1-2 l'unità globale indefinita è un controsenso va salvaguardata la dualità non come violenza autodistruttiva ma come esaltazione della differenza all'interno di una inquietudine cioè un fare concepito come armonia tra voci diverse cioè quello che avevamo visto prima la polifonia alterità identità relazione l'io il tu e la relazione che intercorre tra i due nel 94 una circolare ministeriale diceva professori cercate di parlare dell'Europa nel 2008 il Parlamento europeo decise che il 2008 era l'anno del dialogo interculturale cosa vuol dire dialogo interculturale molto spesso noi dialogo interculturale lo pensiamo come sapere quale cultura abbiamo di fronte per metterle in relazione tra di loro oppure è un sapere oppure un modo per cambiare il nostro modo di essere ecco io credo che come diceva Fichte che la conoscenza ha sì un valore se poi si tramuta in una attività pratica perché conoscere per conoscere non porta a niente è il conoscere per poter fare che ha un senso quindi mettere in confronto le culture non per sapere soltanto ma per agire in maniera che superiamo le barriere che si frappongono la cultura che vuol sapere o la cultura per un fare sono due dinamiche totalmente diverse Galilei il dialogo sui massimi sistemi c'è un simplicio che gli dice Galilei dice guarda dentro a questo cannocchiale no simplicio no no non ci posso guardare perché perché ho paura che non corrisponda poi a quello che diceva Aristotele lo ha detto il mio maestro e guai a pensarla in maniera diversa ecco la conservazione ognuno di noi ha un po' di simplicio dentro però dobbiamo anche staccarci da questo simplicio per andare oltre il dialogo interculturale allora potrebbe invitarci a mettere il focus su problemi politici su problemi economici non credo che siano questi i codici da cui partire dobbiamo partire da un noi che non sottostimi né l'io né il tu quindi i codici esistenziali sono quelli di cui già vi ho parlato vi ho accennato identità alterità relazione diceva Levinas vi ho riportato il suo pensiero seguitelo come se stesse parlando a voi c'è un uomo disinteressato del mondo incurante di sé mancante di ogni iniziativa non so se voi l'abbiate provato che non avete voglia di fare niente vi sdraiate a letto non voglio fare niente sto lì sto lì bene egli vive una vita inautentica non sta vivendo sta soffrendo e basta a un certo punto non si sa né perché né come si accorge di sé dice ma so qua che so devo piangere eh porca miseria ed intraprende un viaggio interiore per capire e spiegare il suo essere ma perché sono qua perché sto facendo questo era disinteressato e gli è nato un interesse prima per il suo io dopo se varda torno e dice ah ma c'è anche qualcosa fuori di me scopre che il suo io non può dirsi isolato a sé stante perché perché c'è un altro e il rapporto è sempre io altro adesso voi provate a definire il vostro io come lo definisco guardate come potete definirlo ognuno di noi ha un ruolo professionale allora il professore il mio collega mi definisce in un certo modo ma ho una vita personale privata allora mi definirei in maniera diversa da come mi definisce il mio collega ho un gruppo fiduciario ho un ruolo pubblico come mi vedono ho un ruolo sociale come mi definisco io ogni volta che mi inserisco dentro ad un contenitore mi definisco in maniera diversa da come mi sarei definito dentro l'altro contenitore quindi qual è il ruolo del soggetto è difficile quasi impossibile determinarlo andando in profondità ognuno di noi si accorge di avere una vita di essere un esistente poi poi dice si sto esistendo però come sono che cosa sono bene c'è anche una consapevolezza di esistere e si accorge di essere qualcosa o qualcuno però una cosa è accorgersi di esistere altra cosa è avere consapevolezza di ciò che sono e quando vedo l'altro mi accordo che è diverso da me lo chiamo estraneo alien tutti i film sugli alieni sono tutti estranei tutti nemici sei un estraneo mentre mi accorgo però che il mio prossimo è un estraneo anche lui si accorge che io per lui sono un estraneo ecco allora che cosa succede se noi viviamo l'altro come un estraneo poniamo un muro tra noi riprendo Fichte prima e poi von Baldassar per dire che l'io cerca di sempre di definirsi cerca di definirsi però ogni volta che si definisce anche von Baldassar ha cercato una definizione l'autopossesso l'io ogni volta però che uno cerca la sua identità si scontra con l'alterità con l'estraneità e l'estraneità si scontra con l'identità allora occorre metterci in relazione uno con l'altro non so se avete studiato OBS OBS dice ero in uno stato di natura ero felice ero dentro no non parla della macca però ero felice perché tutto era mio vi ricordate quando eravate piccoli no se è mio se è mio se è mio forse anche adesso era padrone di tutto a un certo punto trova che c'è un altro e l'altro cos'è e faccio gli faccio guerra e succede che poi oltre all'altro ce ne sono altri 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 e viene fuori la guerra di tutti contro tutti con la relazione come la impostiamo le varie opzioni allora c'è un tu lo assimilo a me e lo faccio a mia identità e somiglianza oppure oppure lo lascio da parte terza opzione come straniero con cui relazionarsi attraverso legami di riconoscimento che non escludano né l'io né il tu problema come vediamo l'altro lo possiamo vedere come ci accorgiamo di vederci su uno specchio piano uguale a noi oppure oppure è troppo invadente e quindi è un nemico da combattere oppure oppure è una nullità da lasciar perdere l'altro è comunque concepito come un limite i latini avevano due termini per indicare limite limes o limen su questo fronte si gioca a mio giudizio il concetto di Europa sulla scelta tra le opzioni che indicano apertura limen chiusura limes scelta che è condizionata da quello che noi siamo da quello che noi pensiamo di essere limes il limes Romolo e Remo lo hanno evidenziato questo ha tracciato un solco il fratello lo ha oltrepassato solco che divide barriere invalicabile avevano una frase i romani per dimostrare che loro erano di Roma mentre gli altri erano dei provinciali erano della provincia civis romanus oggi se voi andate a Roma so di Roma una cinta muraria una fortezza è il limes la storia ci è maestra noi l'abbiamo molte volte interpretato come limes e quindi abbiamo visto l'altro come nemico come barriera il limen invece è un valico è un passo un ponte un ponte tra l'io e il tu io ho portato due anelli un anello che tutti conosciamo che è quello della logica binaria c'è un dentro bianco c'è un fuori giallo qua dentro ci vive uno qua fuori ci vive l'altro e stiamo bene e stiamo bene siamo pacificamente se non conviviamo ognuno vive nella sua identità ma c'è anche una logica topologica che è senza confine che è un certo Möbius costruì è lo stesso anello di prima solo che invece di essere legato così lo leggo in questo modo ed ecco che io ho unito due mondi il mondo bianco e il mondo giallo provate a a fare il percorso voi vi trovate sempre che non c'è più un confine non c'è più un dentro fuori l'anello classico ha un dentro fuori invece l'anello di Möbius no pensiamo alle formiche e le facciamo girare e si incontrano sempre allora l'io e il tu qui in questo si incontra sempre allora ci accorgiamo che il problema dell'incontro o dello scontro è un problema filosofico esistenziale la nostra esistenza dipende dalla filosofia che noi che noi accogliamo è dunque sull'interpretazione dell'altro che si scontra o si incontra la nostra filosofia l'altro da rifiutare come muro quindi rimanere nella nostra eternità muta oppure l'altro con cui con cui mettersi in comunicazione in comunione che è però un'inquietudine dell'esistere perché il conservatore è tranquillo perché conserva ed è sicuro di ciò che ha l'innovatore è sempre sui carboni ardenti perché non sa che cosa gli può capitare in altre parole se rifiutare il dialogo oppure accettarlo se noi lo rifiutiamo seguiamo non so se l'abbiate studiato Parmenide Parmenide definisce l'io come un immobile per cui non ci potrà mai essere incontro con l'altro Derrida invece parla dell'essere come verbo o come esistenza meglio pensare a un esistente che a un essente l'essente uomo o il soggetto Armando Girotti insomma io mi metto in relazione con il soggetto non mi metto in relazione con l'essente come trovare un accordo tra A e B occorre uno sfondo comune di comprensione che bisogna costruire gli oggetti del discorso solo dopo essere divenuti parte di uno sfondo comune di comprensione diventano comunicabili ma mi accorgo che ora Ruit vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci alla prossima volta grazie grazie